Eccoci qua, giornata ieri molto complicata per il Movimento 5 Stelle, si è parlato di crisi di nervi del Movimento, Luigi Di Maio in un post ha evocato addirittura la testugine romana, insomma non è una situazione facile, ne parliamo questa mattina con Luigi Paragone, giornalista ex volto televisivo di questa rete, ora senatore del Movimento 5 Stelle, quindi mi racconterà le cose anche da giornalista. Che sta succedendo? Ci sono un sacco di mal di pancia interni, oggi ho letto un blog della senatrice Elena Fattori, durissimo, che riprende un vecchio paragone che usava sempre Alessandro Di Battista la rana, che Alessandro Di Battista usava sempre, se la rana la butti nell'acqua bollente quella schizza via, se la metti nell'acqua fredda la fai bollire piano piano la rana muore senza nemmeno rendersene conto e poi dice, se io avessi raccontato mesi fa il Movimento 5 Stelle non fa le ansie ma noi cambieremo i termini, ci alleremo con la Lega e chiameremo questa allianza a contratto. Poi ricordate la bella presentazione dei cinque ministri a 5 Stelle, abbiamo chiesto di votare su quelli, ecco non c'entra niente con la scuola di governo, avremo un presidente del Consiglio non eletto, un ministro dell'interno come Matteo Salvini, un ministro della famiglia tradizionale omofobo, ma pazienza diremmo sia alla TAP sia all'ILVA, valuteremo costi benefici per decidere sulla TAP, faremmo un condono fiscale a un edilizio, chi invocherà il rispetto del programma 5 Stelle rischierà sanzioni e persino di essere espulso. Mi avreste preso per folle. Insomma, manco il PD fa un documento così duro contro le 5 Stelle, Paragone, che succede? Ma guarda, con grande ore stati dico che i mal di pancia a limite si riducono a poche persone e la fattore è tra queste, mi domando dove fosse e per coerenza allora perché non ha sollevato fin da subito la questione, poteva non votare la fiducia, così oggi sarebbe stata pienamente coerente, invece ha votato la fiducia, ha votato tutti quei passaggi intermedi e oggi non so quindi di che cosa si possa lamentare. Cioè tu dici un'ipocresia perché se facciamo il governo con la Lega si sa che poi dobbiamo fare le scelte. Questo percorso non nasce certo nelle ultime 24 ore, ha partecipato alla nascita del governo, è stata informata sul contratto, sapeva benissimo i contraenti... Però forse TAP è stato l'elemento che ha rotto l'argile. Non mi ricordo la fattori particolarmente impegnata sul fronte TAP. Non so, per il vostro popolo la roba della TAP è stata molto complicata da digerire. Ti dico una cosa, con grande onestà, io rimango convinto che per me TAP sia un'opera costruita malissimo e gestita peggio. So però benissimo che il punto sollevato da Luigi Di Maio è un punto purtroppo di buonsenso. Dico purtroppo perché non è un discorso di penali, è un discorso legato ad una richiesta di un risarcimento del danno che ovviamente andrebbe a coprire gli sforzi per cui stiamo facendo una manovra. Aggiungo, io sarei anche disponibile ad andare nel Salento, come avevo già fatto una volta, e sono anche disponibile a prendermi, perdonatemi l'ora, cioè il termine che dico e utilizzo questo ora, un vaffanculo grande come una casa, perché riconosco che la battaglia di quelle persone è una battaglia coerente con gli ultimi anni. Noi abbiamo dovuto scegliere un'opzione politica, totalmente politica. Stiamo facendo politica perché dentro le istituzioni si fa politica. Non mi convincerà nessuno che TAP sia un'opera utile, che sia stata costruita bene. Il tuo ragionamento è molto pragmatico, se devo buttare via 20 miliardi preferisco fare reddito di finanza e formare le pensioni, però tu sai bene che ci avete vinto le elezioni su quelle battaglie lì. È facile prendersi soltanto i consensi, gli applausi, ogni tanto la politica deve avere l'umiltà di chiedere scusa e anche sentirsi dire quel vaffanculo che noi abbiamo distribuito tante volte con grande generosità, qualche volta lo dobbiamo prendere noi. E quindi sono disponibile il commento degli altri ospiti. È arrivata un'agenzia perché l'Istat dà i dati sul nostro PIL e dice che l'economia italiana è stagnante dopo tre anni di espansione. Il risultato immediato è lo spread che era 2,93 sale a 3,03, sopra i 300 e la borsa va giù. Per dire come tutte queste cose in qualche modo poi si legano e si tengono. Gianluigi, la cosa più preoccupante... Non legarle in un minestrone perché stiamo mettendo insieme le cose che rischiano di avere comunque dei punti di analisi diversi tra di loro. Allora, da dove vogliamo riprendere? Dall'alta velocità? Io direi Tav, ma soprattutto questa sensazione dello scambio, no? Perché dobbiamo dire forzosamente sì al Tav e diamo un segnale sulla Tav. Non c'è uno scambio, non c'è uno scambio, c'è un contratto di governo in cui i punti erano stati messi sufficientemente in chiaro. Il Movimento 5 Stelle si è presentato con una connotazione che non è sulle grandi opere in senso negativo. Voi avete cominciato la trasmissione raccontando di come gli alberi non sono curati, di come la manutenzione delle nostre strade tutte le volte che c'è un po' più di pioggia, ma tanto così di pioggia in più, perché ho ascoltato sotto corona raccontare che forse alla fine del periodo la stagione delle piogge bene o male ci porta alla stessa quantità. Ci sono un sacco di piccole opere da fare, ci sono tantissime piccole opere da fare e questo è un paese che si è esaltato nel piccolo. Noi non possiamo tutto un tratto dimenticare quella che è l'Italia. L'Italia è l'esaltazione del piccolo, è l'esaltazione del capillare, è l'esaltazione del campanile. Vogliamo imbarcarci in grandi opere? Bene, chiediamo l'utilità. Perché se io dovessi domandare alla gente, e Molinari il direttore lo sa benissimo, quanti chilometri in Italia di alta velocità, treno alta velocità, che è un treno alta capacità, sono stati materializzati, la risposta è sorprendente. Perché in Italia questa benedetta alta capacità non c'è, non c'è stata. E forse in una riconsiderazione del volume totale di prodotto che deve veicolare in Europa, forse ci accorgeremo che a seguito della crisi non è sull'alta velocità che giochi la partita, ma è sulla logistica finale. Vi faccio una metafora. Se tu le corsie dell'autostrada da tre le porti a cinque, e quindi aumenti la tua velocità, ma dopo ci sono soltanto due caselli autostradali alla fine, e quindi è la logistica che è la grande sfida, noi non la giochiamo, allora a che serve avere portato, fatto transitare delle merci con una maggiore velocità quando poi le merci rimangono bloccate nella logistica. Però scusa Gianluigi, se imprenditori, sindacati, cittadini torinesi, sono tutti dello stesso parere, o pensiamo che sono tutti matti, cioè perché confindustria e sindacato si mettono sulla stessa barca a dire questa roba per il paese è esiziale, ci sarà una razio. Ma vi domando per quale motivo deve essere esiziale? Io continuo a stimolare, a chiedere, allora quando tu oggi parli di TAV, e chiudo, quando tu oggi parli di TAV, e anche nei talk si parla di TAV, in più delle volte abbiamo raccontato i no TAV, cioè abbiamo raccontato sempre gli scontri, ma nessuno ha raccontato mai nel merito di che cosa stiamo parlando. Io potrei dire, per esempio, che considero un libro ben fatto, quello di Wuming, che è la descrizione del percorso del treno a alta velocità e di tutte le battaglie, ed è un collettivo che è distante da me, ma nel merito penso che abbiano ragione, abbiano una buona parte di ragione, perché non è sulla sfida della velocità del transito delle merci che diventiamo più moderni, ma è la gestione del lab delle merci. Naturalmente questo è il ragionamento di fondo, che forse adesso sentiamo anche Molinari, ma si attaglia al fatto che i cantieri su tutto questo sono aperti, se li chiudi c'è un sacco di gente che perde il lavoro, però voglio sentire Molinari... Il lavoro lo crei sulle piccole opere, non sulle grandi opere, basta. Ma dove stanno le piccole opere? Non si vedono, però. Io farei l'uno e l'altro. Anche i vostri amministratori non le hanno fatte le piccole opere, come in Cerdà Roma, io le ho viste. Ma è su quello che dico apriamo i cantieri, altrimenti apriamo le trasmissioni con gli alberi, gli alberi che vengono giù, le fogne che si intasano... Sì, diciamo che come diciamo a Pellotto negli ultimi due anni e mezzo a Roma... Volete che vi racconti com'è la Pedemontana o la Brebemi a Varese, Milano e Lombardia? Non ci va nessuno. Pochi mesi fa dei ragazzi hanno giocato a pallone in quell'autostrada, perché non ci andava nessuno. L'abbiamo documentato, ci siamo stati. Molinari, a che serve la TAV? Il punto è che non è solamente il tessuto socio-economico di Torino e del Piemonte a favore della TAV, ma attenzione, anche la Lega in Piemonte e la Lega in Lombardia, basta leggere quello che questa mattina ha detto il Presidente Fontana, sono a favore della TAV. Sì, è vero. C'è un cortocircuito profondo all'interno della Lega. La Lega del Nord vuole la TAV, perché sa benissimo, rappresentando il territorio come nessun altro partito in questo momento, che è nell'interesse dei settori produttivi del Nord fare l'alta velocità per far sì che l'Italia sia parte della nuova Via della Seta che la Cina sta costruendo a cavallo dell'Eurasia. Qualsiasi imprenditore del Nord lo sa e sono tutti imprenditori che votano per la Lega. Il problema è che la Lega a Roma invece ha un'altra strategia impostata sulla realpolitik, la convivenza con i grillini e quindi sostanzialmente sta dando via via, via libera a una posizione luddista dei grillini. C'è un cortocircuito all'interno della Lega che è un problema serio per Matteo Salvini. Direttore, ti domando, la Torino-Rione si impianta su Lisbona-Chiev, giusto? Giusto? Prego. Sei d'accordo? La Torino-Rione si impianta sulla Lisbona-Chiev. L'ascolto. Sei d'accordo? L'ascolto. No, ti domando, del Lisbona-Chiev hai notizie? Ti risulta che questo grande corridoio europeo sia in corso d'opera? Mi risulta che è appena crollato da due mesi un ponte a Genova che ha spazzato via da Genova il transito di mezzi verso la Francia. Se a questo aggiungiamo anche tagliare il cordone fra Torino e Lione significa voler isolare l'Italia dalle regioni più produttive d'Europa, attenzione verso le quali esportano la maggioranza delle aziende italiane, soprattutto le aziende del Nord. Beh, ho fatto il giornalista... Che sono aziende in cui leader e in cui operai votano per la Lega. Ho fatto il giornalista anch'io. Credo che sia interesse di Matteo Salvini ascoltare quello che il territorio del Nord sta dicendo. Perdonatemi. Voi volete parlare di TAV o volete parlare del luddismo, delle divisioni tra il Movimento e la Lega? Perché se volete parlare di TAV, io come vedete sto sul dossier TAV e vi dico che il dossier TAV nella parte Torino-Lione si impianta nel più complessivo progetto europeo della Lisbona-Chiev e invito i giornalisti qui presenti, che sono molto più bravi di me, molto più titolati di me, a fare una bella inchiesta su come è ridotto il famoso grande corridoio europeo della Lisbona-Chiev. E allora a quel punto raccontereste ben altre verità. L'alta velocità Napoli-Roma-Milano è stata per questo paese determinante, cioè non è stata una cosa da poco. E forse è uno dei pochi, anche a Gianluigi, secondo me è uno dei pochi segni tangibili di una modernizzazione del paese. Seconda cosa, scusami Gianluigi, poi ti lascio subito la parola. L'altra cosa, è ovvio, è giusto quello che dici, grande velocità, poi arrivi e devi sviluppare la logistica. Ma l'una cosa chiama l'altra, cioè mi sorprende che un movimento che nasce anche su un basi di difesa dell'ambiente, eccetera, non colga al volo l'occasione di un trasporto merci su ferro e non su strada, assai più inquinante, più invasivo, eccetera, e non provi ad appoggiare quello. Perché è lo sviluppo del futuro, è quello lì. Ma attenzione, lo sviluppo del futuro è legato alla logistica delle merci, non alla velocità. Certo. La velocità, allora, per il volume totale di prodotto, che tra l'altro sappiamo essere in diminuzione, ok? Per il volume totale di prodotto bastava, bastava, la linea pregressa. C'era la linea, non è che la linea alta velocità è un qualcosa di nuovo che va a costruire su un inesistente. Va a diversificare rispetto ad una linea che già esisteva e che, dati alla mano, poteva tranquillamente essere utilizzata. Ma non è vero. Ma l'investimento produce... Mi è arrivata una notizia ultima ora su TAV e Val di Susa. Che è successo? La TAV Torino-Lione non è un'opera dannosa ma inutile. Sono soldi piegati male, rischia di essere un investimento fuoriscale e fuori tempo. Questo è oltre la rottamazione, autore Matteo Renzi, edizione Mondadori. Porca miseria, nel suo libro oltre la rottamazione Matteo Renzi aveva scritto che non è un'opera dannosa, è inutile. Ovviamente poi i punti di vista possono cambiare. Noi invece le teniamo coerenti. Se Renzi avesse voglia di chiamarci e di spiegarci questa affermazione... No, è scritto sul suo libro, oltre la rottamazione. Molinari ha scritto un libro molto interessante sulla genese dei populismi e il suo punto di vista. Arriva dopo una serie di altre considerazioni fatte, per esempio, da Stephen Hawking, che così scrisse proprio a Repubblica. Le élite imparino l'umità o il populismo sarà trionfante. Oggi la diseguaglianza economica rischia di sgretolare la società. Stiglitz, nei suoi libri, ha sempre detto... La rabbia è già esplosa. Urgenti nuove regole su tasse, bonus e lobby. Il premio Nobel. Se la maggioranza dei cittadini si sente esclusa dai vantaggi della crescita, si ribellerà al sistema. Brexit e Trump lo dimostrano. Questo lo dicevano tantissimi anni fa. Recentemente un grande economista, Allen Sine, è stato ieri intervistato da Repubblica, dal messaggero. Evidentemente Repubblica dava fastidio a fare il titolo sulla notizia vera che dava e quindi l'ha dovuto rovesciare. Però questo signore, questo importante economista, dice Il bilancio italiano ha delle difficoltà, ma non è in condizioni disastrose. E ripeto, basterebbe davvero un gesto di buona volontà da parte dell'Europa. L'allentamento della rigidità, ecco il gesto di buona volontà, di pura marca tedesca, che malgrado le prove ripetute di insuccesso, continua a caratterizzare l'approccio europeo. I parametri fissati sono troppo rigidi. Adoro la rassegna stampa di Paragonia. No, ma non è che la rassegna stampa, è che io ti sto dicendo che proprio importanti economisti invitano il governo italiano ad andare avanti sulla strada. Lo scrivono, lo dicono tra Europa e Di Maio. Credo che siamo arrivati tutti al punto di dire che il problema di eseguaglianza è diventato il problema. E noi lo stiamo facendo. Se non affronti quello, tutto il resto non col. Lo stiamo facendo con una manovra economica. Spero che adesso Maurizio mi senta.